Don Riboldi è stato un prete che ha cambiato completamente il ruolo della Chiesa in terra di Camorra. Don Riboldi è un uomo che ha dichiarato chiaramente che l'attività pastorale non poteva che essere svolta contro i clan, altrimenti avrebbe fallito il suo percorso, il suo compito. La forza di Don Riboldi negli anni di contrasto alla criminalità organizzata è stata quella di rivoluzionare il percorso, sì, rivoluzionarlo, e cioè permettere di accedere a quanto di umano ancora c'era nell'intimo dei camorristi. Per questo fu accusato, spesso isolato, ma Don Riboldi faceva questo, cercava di poter fare maieutica, fare uscire quello che di umano ancora resisteva nell'animo dei camorristi. In molte case ci riuscì, in altri fallì. In ogni caso, tutto il suo percorso è stato un percorso di verità nel tentativo di trasformare le cose, facendo incontrare le persone.